Vi ringrazio per questo vostro servizio di due secoli e mi auguro che la Società dello Stato di Città del Vaticano riconosca il vostro lavoro, un servizio che costudisce, che cerca non solo di fare in modo che le cose vadano giuste, ma anche con carità e tenerezza rischiando la propria vita. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa per il bicentenario del corpo della Gendarmeria Vaticana, che si è tenuta stamattina nella Basilica di San Pietro. Commentando le letture bibliche di questa domenica, il Pontefice ha descritto le tre figure dello sfruttatore, del truffatore e dell'uomo fedele, ricordando che mentre i primi vivono della corruzione e dell'inganno sullo sfruttamento del lavoro e calpestando i poveri, l'uomo fedele è onesto, prega per gli altri e confida nella preghiera degli altri per lui, stando a testa alta. Il vostro compito è difendere l'onestà e tante volte mal pagati. Io vi ringrazio per la vostra vocazione. Io ringrazio per il lavoro che fate. So che tante volte dovete lottare contro tentazioni di quelli che vogliono comprarvi. e mi sento orgoglioso di sapere che il vostro stilo è dire no in questo non centro.